La particolarità di questo nuovo modello Abbiamo presentato questa cosa nella fiera in Inghilterra Però questo problema inizia ad essere sentito anche qui in Italia Come abbiamo detto, spesso la profondità della macchina da caffè Dà dei problemi per la preparazione dei cappuccini E quindi abbiamo inserito questo accessorio Poi abbiamo un cassettino Abbiamo la tramoggia pattifondi Fantastica con gli angoli stondati Può essere estraibile e tranquillamente la potete mettere nella lava piatti o lavabicchieri Tutto in acciaio, il retrobanco Abbiamo uno sportellino qui sotto per il softener Per il filtro del sale E poi abbiamo anche qui un'altra predisposizione Un altro vano Sempre tutto con il basamento in acciaio inox Per la predisposizione eventualmente di una macchina lavata a zine Andiamo poi a parlare qui del retrobanco Con il retrobanco ovviamente abbiamo una cappa Una cappa, in questo caso una cappa tema Con il modello Marinoce C'è l'illuminazione E c'è l'illuminazione E abbiamo anche qui In pratica Una pentola Grazie a tutti